Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video del pagellone barra giorno dopo, inerente come che sia, della partita Napoli-Torino, partita finita come sanno anche i muri per 1-1, un Napoli che floppa un ulteriore partita dopo Cagliari, un pareggio avvenuto all'ultimo minuto Il Napoli pareggia anche ieri col Torino, dopo aver segnato un gol, l'urlo di gioia è rimasto strozzato in ganno e Sanabria fa un gol della Madonna, Sanabria che guarda caso non segnava proprio all'andata contro di noi Quattro punti persi sanguinosi, quattro punti in cui potevamo stare anche sopra la Roma ma il Napoli floppa, il Napoli floppa, il Napoli che non riesce a trovare questa terza vittoria consecutiva Questo numero 3 è maledetto, prendiamola un po' sull'ironia e un po' sul ridere Un Napoli che con calzoni in campo, almeno ad oggi, ha fatto 0 sconfitte, quindi 3 pareggi e 2 vittorie, vittorie fatte con un Sassuolo che va in Serie B E contro una Juve in sprecona, come ho sempre detto nel post partita e anche nel pagellone Una Juve in sprecona ma un Napoli bravo e cinico che ha avuto poche occasioni ma quelle poche le ha sfruttate in maniera pulita e onesta E io ieri, ancora ieri, mi ritrovo i gioventini che rosicano a distanza di una settimana Ma io dico no, che cazzo rosicate che tante andate in Champions? Cioè boh, vi rimaste ancora ancora? Eh, why you? Questa è l'unica gioia che mi rimane Vedervi rosicare, punto, per una vittoria Che godo ancora oggi Ma che ormai Io ormai la partita della Juve Se non foste per voi che la cicciate fuori una da volta Io cambiavo tranquillamente libro E invece devo ribadirvi che Godo ancora Godo ancora Eh, ci sta, ci sta Allora Iniziamo prima delle parole Iniziamo prima delle parole dei protagonisti Perché hanno parlato Mare Rui Ha parlato ovviamente Calzona E ha parlato Traore Tutti e tre a Sky Sport Perché come sappiamo da zona ormai Addios totale Mare Rui ha detto Cioè rimpianto per questo pareggio Abbiamo fatto gol E siamo stati ripresi dopo 5 minuti Neanche 5 minuti Siamo arrabbiati Abbiamo provato fino alla fine Cercando di creare occasioni Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile E volevamo dare continuità Ma non siamo riusciti a vincere Ci siamo ritrovati Stiamo macinando gioco E creiamo più occasioni Questa rabbia proveremo A sfruttarla in maniera positiva Nel match di martedì Poi fa una domanda Su Kwarascheli Il giornalista Kwarascheli è tornato A quello dello scorso anno Lui risponde Non rispondendo Stiamo crescendo a livello mentale Era stato il nostro limite La testa non andava E non trovavamo le giocate Ora siamo più liberi E lo stiamo dimostrando C'è una cosa Di Kwarascheli Non ha parlato proprio Kwarascheli Credete al quarto posto? Era una settimana importante Considerando gli scontri diretti E serviva per dare continuità Purtroppo non ci siamo riusciti E speriamo che gli altri Facciano dei passi falsi E ho un problema Caro Mario E che gli altri Possano fare tutti I passi falsi che vuoi Ma se tu pareggi All'ultimo minuto col Kwarascheli Ti fai agguantare dal Torino E non riesci a ribaltare la situazione Perché il Torino Tatticamente è stato bravo E con Minkovi Savic Proprio ad hoc Cioè Che vuoi fare? Che vuoi sperare? Che vuoi sperare? Tu La Champions L'hai persa Dalla sconfitta Dell'andata col Torino Almeno quella per me è stata La pietra tombale di tutto Ok? Della speranza Traore A che percentuale sei fisicamente? Sono arrivato che non stavo bene Ora la mia condizione sta crescendo Ma non sono ancora al 100% Sto lavorando per tornare Quello che era a Sassuolo Magari Perché quello era un bel giocatore a Sassuolo Quanto prima di questa partita Stavate pensando a Barcellona? Non stavamo pensando a Martedì Bisogna affrontare partita per partita Nea nostra testa c'è il Torino C'era il Torino Da domani Penseremo a Barcellona Giocare al Camp Nou O meno Cambia poco Ci faremo trovare pronti E infatti Il Barcellona non giocherà al Camp Nou La partita non si sarà al Camp Nou Ma In uno stadio a Barcellona Non so se neanche dove Vabbè Sembra Barcellona comunque Insomma Dichiarazioni normali Mario Rui Non ha parlato di Guaraschelia Molto Molto deluso Dal pareggio E ci sta E vabbè Tra ore ha parlato più di se stessa E più Di Barcellona Calzona Come mai non ha messo Simeone Sull'1-1 Perché molti Sia in live Soprattutto Parlavano di Simeone Noi ma col Zono Non potevo mettere Simeone Fare un 4-4-2 Che io personalmente Le due linee a 4 So come gattuso Non le sopporto Non mi piaccio Ok Comunque Lui ha risposto Perché con Osiman Sono due giocatori Che poi dovevamo buttare Palle in mezzo Questa squadra Ha caratteristiche diverse Non volevo intasare l'aria A parte questo Sono molto contento Della squadra Hanno giocato 96 minuti di qualità E abbiamo subito Molto poco O problema È che tu puoi subire Anche un tiro a partita Ok Ma quel tiro Sassuolo Lo dimostra Segnano Perché segnano Perché hai un portiere Che non è un top Che non è un top Ok Ma sul gol Ieri non poteva fare niente Peretto Bisogna dire Bisogna essere onesti Sul gol Non poteva fare niente Ma il problema È che hai una difesa Cioè Gli anti Napoletani O chi non ti fa Napoli Dice Eh ma Quanto siete Incoerenti Voi avete La stessa squadra D'anno scorso Senza Kim E Spalletti Cioè Ma Ma volete capire Che L'assenza di Kim Il perno importante Il difensore di personalità Il difensore di Cazzimma Serviva E lo dovevi comprare Quest'estate Se non l'hai preso Quest'estate Lo dovevi prendere A gennaio Bastava cacciare i soldi Visto che Napoli Vanta Di essere la seconda squadra Al mondo Di aver fatturato bene Cazzo Cioè tu ti sei ritrovato Da Kim Hai preso Nathan Che è un giovane Non può mai essere Paragonato a Kim Tu sei passato Da Kim A Waiyesus Che l'anno scorso Era Il terzo Il quarto Centrale Differenze Questa è la differenza Non abbiamo Un difensore Di qualità E di mentalità Oltre che di personalità Ieri paradossalmente È mancata la presenza Di Rachmani Paradossalmente Che stava giocando anche bene Ultimamente Vabbè Anche oggi Un gol preso Abbiamo preso Sempre gol Da quando ci sono È una cosa Che non mi piace Il tempo è troppo poco Per curare i particolari Si va per priorità Stiamo aggiustando Anche questo Perché abbiamo concesso Poco stasera Un pizzico di malasorte Anche sul gol Se però Continuiamo Così Siamo sulla buona strada Occhio Alla fine Il Napoli La prestazione L'ha fatta pure bene Abbiamo creato molto Abbiamo subito molto Soprattutto Sui contropiedi Voglio il Torino Iera Soprattutto nel secondo tempo Ha avuto due contropiedi Assurdi Che meno male Meno male Che non ne hanno approfittato Tipo stava uno Con Bellanova Che invece di allargare La Sanabria Tira in cielo Quindi Meno male Che non hanno sfruttato Questi contropiedi Meno male Altrimenti staremmo Parlando d'altro Giocatori delusi Come giudica La prestazione di Zelischi C'è un po' di delusione Perché abbiamo creato Tantissimo Negli spogliatori Ragazzi Ho detto che Questa è la strada giusta Con questo atteggiamento Le partite Le vinciamo Sono contento Della prestazione di Zelischi Sono contento Di averlo ritrovato Eh Il problema di Zelischi È mentale Il problema di Zelischi Perché lui Se ne sta fottendo Altamente Perché tanto lui Va nell'Inter Una squadra Campione d'Italia Una squadra Che va in Champions In Napoli Va o non va in Champions È una vote Personalità Zero Personalmente Io Non penso Che si possa fare Io da oggi Cambierei lista Fuori Zelischi Proprio fuori Di Rosa E fare rientrare Demme Perché Vuoi Demme Sta ancora Il castello Volturno Continua Ad allenarsi Quando si chiama Professionalità L'Industrom A centrocampo Può giocare Potrebbe avere Le caratteristiche Nell'emergenza Potrebbe essere Un'opposizione Ora Cambiare modulo Sarebbe tornare Nella confusione Lo puoi fare Nei minuti finali Per provare Qualcosa di diverso La squadra Ha bisogno Di certezze E non posso Stravolgere le cose Più di tanto Non abbiamo avuto La possibilità Di trovare Di provare Questa opzione Vista l'emergenza A Barcellona Potremmo provare Questa situazione Io L'Industrom O lo metterei Nel 4-2-3-1 Con l'Industrom Appunto Dietro La punta Oppure Lo provi Mezzala Anche se Secondo me Mezzala Non lo vedo Tantissimo Al centro Perché non ha Il passaggio Il passaggio pulito Il passaggio filtrante Per come lo vedo io Però Se Calzona Avrà questa intuizione Di metterlo Mezzala Ciapeau E abbiamo un acquisto In più A centrocampo E per i mesi futuri Perché è meglio L'Industrom Che almeno Ha voglia di fare Piuttosto Di un zelischi Che se ne fotte Osimene In calo fisico La partita con la Juve È stata Gagliarda Da parte sua Abbiamo giocato Quattro gare In dieci giorni Di tutti i dati Di tutti i dati Con la Juve Gli unici negativi Sono state Le occasioni Da rete È normale Che un giocatore Che è stato Più di un mese In Coppa d'Africa Abba un leggero calo Sono soddisfattissimo Di lui Per le cose Che li chiedo Si sta impegnando Molto È un giocatore Importantissimo Per noi Può risolverti Le partite Anche se Non è al 100% Sì Il problema È che Osimene Ieri Come con la Juve È stato invisibile Cioè Osimene Quando affronta Un difensore Che lo marca Stretto a uomo È paradossalmente Successo Anche l'anno scorso Con Igor Della Fiorentina Fa fatica Fa fatica Perché lui ha bisogno Di praterie Di essere servito In profondità E lui in velocità Prova a fare qualcosa C'è stato un momento In cui ha superato Buongiorno E Buongiorno Poi è stato costretto A fare fallo È stato Purtroppo Come ha detto Valzona Sia con la Juve Ma anche Ieri È stata una partita Gagliarda Perché nell'uno contro uno Sia contro Bremer Che contro Buongiorno È stata una bella Una bella lotta È una bella lotta Però Osimena ha questo difetto Che quando lo marca A uomo Fa fatica Ed è una cosa Che Si riporta Da diversi anni E io l'ho sempre Non mi ricordo Se l'ho detto Mi pare di sì Dicendo che per me Osimena Per resistere un po' Dal punto di vista Fisico Dal punto di vista Dell'impatto Con i difensori Quando lo marca Lo stretto Deve mettere un pochino Di più di massa muscolare Certo potrebbe diminuire La velocità Però almeno La stazza La potrebbe aumentare In conclusione Noi potevamo passare Un weekend Con tutta la tranquillità Del mondo Potevamo vincere E poi guardare Bologna-Inter A proposito Tra parentesi Stasera L'avri Bologna-Inter Dalle 5 e mezza Alle 8 Anche se non serve un cazzo E Cioè Noi potevamo vedere Bologna-Inter Tranquillamente Juve-Atalanta Tranquillamente Fiorentina-Roma Tranquillamente La verità È solo una Che tu Nei mesi precedenti Non negli ultimi Nelle ultime settimane Nelle ultime partite Nei mesi precedenti Ha buttato Diversi Troppi Punti Che adesso Ti stai rimangiando Questo è il problema Questo è il problema La Roma Ha ritrovato Corsa Ha ritrovato Voglia Ha ritrovato Mentalità In Bologna Non si ferma Non si ferma Ok E quindi Secondo me Strasera Potrebbe esserci anche Una Una sorpresa A Bologna Poi Chi lo sa Noi siamo ridotti A gufare Bologna Roma Questo è il nostro destino Ormai Ormai il campionato È bello Che è finito Grazie Dell'Aurentis E io lo torno A ripetere Io torno a ripetere Con tutta la tranquillità Del mondo Why you Io Tra conference league E fuori dalle coppe Io preferisco fuori dalle coppe Perché Dell'Aurentis Ha da capì Ha da capì Che senza investimento Non può fare un cazzo Non esistono sempre i miracoli E guardate anche qua Come ve lo dico Se la Roma Ha un Ha l'intelligenza È intelligente L'anno prossimo Sarà una bella Roma L'anno prossimo E Dell'Aurentis Sa da mangiare Tutte cose Sa da mangiare Io ve lo dico sempre Comunque ripeto Brucia Perché Napoli Poteva meritare di più Però alla fine Miringo Isai Ha fatto i miracoli E quindi Pazienza Amen Parlando della partita Voglio aprire una parentesi Suorsato Ok Perché nessuno Ne parla Però O per onor di cronaca Va parlato in maniera onesta Non lo uso come alibi Ok Perché se l'avessi usato come alibi Ne avrei parlato prima Però Ne parlo nell'ultima chiusa Ok Del discorso della partita Ok Quindi è inutile Che mi venite a rompere le palle A dire Ma è colpa dell'arbitro Eh Che poi stamattina Mi sono svegliato Che Oggi voglio sbannare tutti Tanto Youtube Lo cago Non lo cago Vi sbanno tutti Non banno più nessuno Non nascondo più nessuno Nel canale Ok Se c'è qualche provocatore Passo oltre Sti cazzi Tanto ormai Questo è social Questo è social Non social di merda Perché piuttosto che Parlare di calcio Vogliono provocare E offendere Amen E ormai voglio In un po' stasera Sembra appresso A voi con creature De tre anni Comunque Parentesi orsato Orsato Una domanda Una Una domanda Una Malinetti Per prendere giallo Che doveva fare Malinetti Ha scommato Di calci Proprio tutti qua Anghissalo Bot Cavaraschelia Ha dato calci a tutti Mangunciallo Mangunciallo Uno Uno Non l'ha cacciato Uno Non l'ha cacciato Poi Un'altra cosa Che è ridicola Non ha dato regola De vantaggio Per il Napoli C'era un fallo Sullo bot La palla Era nostra E tu non dai E tu non dai La regola Del vantaggio Ma sei proprio Strunz E' proprio vero Che con orsato Noi Prima della partita C'hanno Fosegno Ha fischiato Pure falli Inutili Cioè Ma se Nel calcio Esistono i contatti Esistono i contatti E i giocatori Del Torino Se stanno Sembonder Andassero a fare Il curling Che non c'è Un contatto fisico Poi il Torino Per carità Io lo ripeto Tatticamente Buoni Il Torino E' buono Non a caso E' la quarta difesa E' il campionato Però cazzo Come che perdono tempo Dio santo Cioè In sei minuti Ami giocato Forse tre In sei minuti Di recupero Forse tre Bisogna Inserire Il tempo Effettivo Così Chi perde Tempo Sa che E' inutile Tra amico I Savic I giocatori Che stanno Andè Ogni minimo Contatto Stanno Andè Si smuiono Ma che cazzo Vabbè Non è una scusante Però Tempo effettivo Pagelle Pagelle Meret Sei più Sei più Sei più Sei più Alla fine Il Torino L'unico tiro Pericolo Veramente pericoloso E' stato Sono addormita Li Zelischi E poi ha fatto Una bella parata Su gol C'è qualcuno Che dice Che poteva uscire C'è qualcuno Che poteva fare qualcosa Però Alla fine Meret Non poteva fare niente L'ha pure parata Forse c'è andato un po' Molle Che forse voleva andare Voleva buttarla alta Ma alla fine La rovesciata è stata Abbastanza potente Nella parte di Sanabria Di Lorenzo Io a Di Lorenzo Aiulito Cinque e mezzo Di Lorenzo Bravo Nelle sovrapposizioni Bravo Nel farsi vedere Bravo Nel accompagnare L'azione offensiva Ma tecnicamente Mi ha deluso Tecnicamente Troppi passaggi sbagliati Troppe scelte sbagliate Non va bene Ostigard Sei meno Signori Io Ostigard Con la partita Nella Lazio Mi son detto Ma ne vale la pena Di prendere Perez Noi abbiamo Ostigard Sfruttiamolo Ecco qua Ostigard Ecco qua Sfruttiamo Ostigard Che è un pachiterma Con le gambe Bravo Solo nei colpi di testa E ieri Non ne avvidi Tantissimi Vabbè E di piedi Hai dei feri da stiro Con i piedi Cioè Quando noi proviamo A fare la costruzione Dal basso Ostigard Ma fa venire Con cosa Ritaschino Vabbè Why Jesus Io lo voglio premiare Se è mezzo Mi è piaciuto Why Jesus Mi è piaciuto Cazzimoso Pulito Mentalità Approvato A far A far rimanere Concentrati Tutti Se è mezzo Sono me Da Mario Rui Sei Sei Solo per Per l'assist Why U Solo per l'assist Perché se dobbiamo Parlare In maniera generale Why U Bellanova Gli ha cagato in testa Ma Ma si sapeva Si sapeva Mi pare che l'ho detto Pure Pre partita Mario Rui Dal punto di vista Fisico Cioè Bellanova è una bestia Mario Rui è un nano Cioè Bellanova l'ha proprio Sempre sovrastato Sui colpi di testa E sulle elevazioni Però sei ci sta Angissà Sei meno Io non capisco Angissà Che vuole fare Della vita Perché Nel primo tempo È stato invisibile Non ha vinto Un contrasto L'ha fatto un cazzo Nel secondo tempo Un pochino meglio Sei meno Cioè Se dovesse arrivare Un'offerta Ciao Angissà Onestamente Lobotka Sei Sei Perché Juric Come sempre Gli ha messo Vlavesic Come Per schermarlo Per chiuderlo E infatti Da lui Sono passate Pochissime palle Lui È stato pure Troppo lento Nel far girare La palla E Quando è marcata Uomo Bisogna Che i due Le due meziali Si facciano vedere Ma ieri Robotica Era da solo E che potevo fa Zielinski Sono esagerato Se dico uno 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 Poi ha passeggiato In campo Cioè C'è stata Un'azione Non un'azione Un momento In cui Quello del Torino Correva Portava palla Con tutta la tranquillità Zielinski Lo guardava E correva tranquillo Cioè Come se Facesse Jogging Aglio Tu te le manià Ma che rispetto Hai per la maglia Per la società Che ti ha dato Da mangiare Per otto anni Aglio Tu devi scivolare Aglio Zielinski Non l'ho vista Fare una scivolata Per intercettare Un pallone Una Non l'ho vista E io ripeto Se si potesse fare Fatemi sapere Se si può fare Se si potesse fare Mandate a fanculo Zielinski E fate rientrare Credemme Perché io Questo Zielinski Non lo accetto In fase offensiva Non ne parlam In fase interdizione Non ne parlam Uno Basta Chi ci sta a chiù Politano Diciamo Politano Sei Perché ci ha Provato Gli diamo Questo alibi Che ci ha Provato E diamogli Quest'alibi Che ci ha Provato Deve cambiare Un po' Il suo repertorio Perché non è possibile Che ogni volta Che ti hai una palla Subito Avanti Deve ragionare Deve ragionare Poi vabbè È uscito Con mal di schiena Per quanto Me riguarda Angong Che è molto Più forte Di lui Però Purtroppo È infortunato Claraschelia 8 Non me ne fredda un cazzo 8 23 anni Anzi 22 22 anni Guadagna Meno di Zielinski Meno di Demme Eppure si mette Napoli sulle spalle E prova a fare qualcosa Sì Nel primo tempo Ha sbagliato Perché quel tiro Potevi Tirarlo Alto Sulla 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 destra Del portiere E invece È tirato in bocca Milingo Visavic Amen Però poi Si è messo Il Napoli sulle spalle Guadagna ha creato Il panico Soprattutto nel secondo tempo Che c'ha da fa C'ha da fa Se in avanti I suoi compagni Fanno poco movimento E fanno poco In generale Osiman 5 e mezzo Come ho detto prima Quando incontra Difensori Che lo marcano A uomo Fa poco E questo è il discorso I subentranti Olivera 5 e mezzo Lindstrom senza voto Traore 5 Raspadori 5 e mezzo Mi aspettavo qualcosa in più Dai nuovi Ma Effettivamente Non potevi fare niente Calzona 5 5 per un motivo Per un motivo Bello Bello chiaro Cambi ritardo E cambi sbagliati Perché Allora Ragionati insieme a me Come ha detto Calzona Giustamente Tu hai fatto 4 partiti In 10 giorni Eppure Tu hai messo La stessa Identica formazione Sempre Tranne 1 o 2 cambi Ok Non hai sfruttato Lindstrom Non hai sfruttato Den Donker Non hai sfruttato Mazzocchi Non hai sfruttato Nathan Non hai sfruttato Simeone Cioè Calzona Si sta comportando Un pochino Come Sarri Vi ricordate Sarri Che si affidava Sempre ai soliti Ecco Calzona Piccola critica Deve iniziare A dare fiducia A tutti Per questo 5 Perché altrimenti Grazie al cazzo Che poi arrivi Col Torino Stanco Eppure la tenuta fisica Ci sta ancora Why you Fatemi sapere la cosa Iscrivetevi al canale Se vi piace Commentate le vostre opinioni Riguardo alla partita E non solo Ormai la stagione Bella che è andata a puttane Però Vediamo 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 che morte facciamo Mo teniamo Barcellona Mo teniamo l'Inter Poi c'è la pausa Re nazionale Ma che cazzo Why you Fatemi bravi Volevamo passare un bel weekend Un bel weekend E merda Passam Vabbè Ciao a you Grazie a tutti La scuulica La scuulica Non conosco sacudì Ribella vita è Moderno libertà e sempre a te Volgo liberta e sempre a te Grazie a tutti.